venite una volta da noi e non andrete mai più da nessuna parte cioè la macchina si ferma per sempre poi un'altra officina c'è scritto si riparano biciclette anche rotte e un negozio di casalinghi fuori ha scritto vendonsi bialetti originali senza umino senza umino poi c'è un negozio di ferramenta dove fuori ferramenta c'è scritto sega a due mani e a denti stretti 50 euro queste le capito? sono quelle delle ferramenta a due mani e a denti stretti poi c'è una lavanderia dove fuori c'è scritto qui si smacchiano antilopi ci sono alcune cose di passaggio ma si smacchiano solo le mani e poi sul citofono della caserma dei carabinieri di Gragnano c'è scritto attenzione per suonare premere se non risponde nessuno ripremere e infine un negozio di manugimi dove c'è scritto tutto per il vostro uccello L'unzio Reina il nome vedi grazie a tutti grazie a tutti